Oggi parliamo della felicità dei Santi. Santi Reneo affermava che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Nella Didache si suggeriva agli uomini di guardare ogni giorno il volto dei Santi e di trarre conforto dai loro discorsi e dai loro sguardi. Nel Paradiso Dante incontrerà il volto dei Santi sempre sorridente. Si può dire anche con le parole di Charles Muller che nel Paradiso c'è il sorriso di Dio. Una delle prime figure che si incontrano nel Paradiso è quella di Piccarda Donati. Nell'Inferno avevamo trovato tra le figure femminili soltanto Francesca come grande protagonista perché le altre donne erano quasi soltanto nominate. Nella Purgatorio invece incontriamo Pia de Tolomei nel canto quinto e poi troveremo la chiusura della seconda cantica con le due grandi figure di Matelda e di Beatrice. Possiamo dire che c'è una sorta di climax ascendente ovvero man mano che ci eleviamo verso il cielo e più i reini sono popolati di figure femminili e il Paradiso si apre con la figura di Beatrice nel canto primo e con la figura di Piccarda Donati e poi di Costanza d'Altavilla nel canto terzo ove Dante si trova nel cielo della luna ovvero di quelle anime che hanno mancato ai voti non per colpa personale ma perché hanno subito violenza. La figura di Piccarda Donati è un caso unico in tutta la Divina Commedia perché noi troviamo tre persone, tre fratelli appartenenti quindi alla stessa famiglia dislocate nelle tre cantiche. Corso Donati, il capo dei guelfi neri, personaggio violento, viene collocato ante litteram nell'inferno. Nell'inferno noi troviamo una profezia che ci fa intuire che questo personaggio finirà per l'eternità nell'inferno. Mentre Forese Donati, amico di Dante, è in purgatorio nella balza dei golosi e lì Dante quando incontra Forese Donati si ferma a parlare con lui. In vita erano stati amici e tra i due c'era stata anche una tenzone in cui Dante aveva preso di mira la moglie di Forese ovvero Nella. E lì incontrandolo in purgatorio Dante Viator si vuole come sdebitare sottolineando come Nella sia la donna che in Firenze mostra quella che è la pudicizia mentre le altre donne fiorentine sono svergognate. E in purgatorio nel canto ventitresimo Dante aveva saputo dall'amico Forese che Piccarda Donati era già in paradiso. Infatti Forese aveva detto la mia sorella che tra bella e buona non so qual fosse più triunfa lieta nell'alto limpo già di sua corona. Infatti Piccarda Donati si trova nel primo cielo e quando Dante vede nel primo cielo una figura non ben nitida come se fosse specchiata si volta per capire dove sia quest'anima. Allora la guida di Dante Beatrice sorride e fa capire a Dante che queste anime che lui vede sono anime reali non sono dei riflessi. Vere sostanze sono ciò che tu vedi qui relegate per manco di voto. Queste anime che tu vedi sono realmente tali non sono specchiate le hai proprio davanti a te. E Beatrice invita Dante a porre le domande. Man mano che Dante salirà di cielo in cielo vedrà soltanto delle luci perché Dante potrà vedere l'immagine e l'effigie delle anime dei santi soltanto quando sarà nell'Empireo davanti alla candida rosa. Solo nel primo cielo Dante vede ancora una pallida effigie di quella che era la figura sulla terra. Ma Piccarda che in paradiso è molto più bella rispetto a come era in terra perché nel paradiso le anime sono completamente perfette, compiute e felici. E quindi Piccarda rivela la sua identità, rivela che lei fu una monaca ma che fu sottratta dal convento dal fratello Corso Donati per farla sposare ad un amico di Corso. E quindi secondo l'aneddotica Piccarda Donati lo stesso giorno del matrimonio morì e quindi non consumò questo matrimonio. E Dante dinanzi a Piccarda vuole sapere se le anime in paradiso siano completamente felici. Voi che siete qui felici desiderate voi più alto loco per più vedere e per più farvi amici. Quindi è possibile provare invidia in paradiso. L'invidia è la percezione che ti manca qualcosa, che vorresti quello che non hai. E quindi invidia è guardare male qualcun altro perché ha un bene che vorresti tu. È possibile soffrire invidia in paradiso, chiede Dante. Ma Piccarda dissolve ogni dubbio dicendo che in paradiso la felicità è totale. I santi è come se fossero dei bicchieri con una capacità diversa. Ma questi bicchieri sono sempre ricolmi d'acqua. E potremmo dire anche che questi bicchieri è come se traboccassero sempre di acqua. Perché questo desiderio che hanno le anime in paradiso è sempre compiuto ma è sempre anche risorgente. Il paradiso non è il luogo dove il desiderio viene meno, ma è un luogo in cui il desiderio è percepito al suo massimo grado ed è sempre soddisfatto al suo massimo grado perché le anime dei santi sono dinanzi alla perfetta carità di Dio e sono in perfetta comunione tra di loro. E infatti Piccarda dice in la sua volontà è nostra pace. La nostra pace, la nostra letizia è nell'essere secondo la volontà di Dio. Elle è quel mare al quale tutto si muove, ciò che è la cria o che natura face. La letizia sorge dalla perfetta sintonia tra la volontà del santo e la volontà di Dio. Nel Padre nostro sentiamo sia fatta la tua volontà. Possiamo percepire il paradiso in terra quando noi amiamo quello che il mistero ci chiede, quando noi amiamo la strada sulla quale siamo messi. E Piccarda in una perfetta sintesi racconta la sua vita. Dal mondo per seguirla, cioè per seguire Santa Chiara, giovinetta fuggimi. E nel suo abito mi chiusi e promesi la via della sua setta. Quindi diventai una clarissa. Uomini poi a mal più che a bene usi, uomini che erano abituati al male più che propensi al bene, fuori mi rapirono della dolce chiostra. Mi rapirono, mi portarono fuori dal convento. Iddio si sa qual poi mia vita fussi. Non c'è assolutamente alcun accenno al desiderio di vendetta, non c'è neanche un accenno alla violenza subita, è soltanto fatta intuire perché ormai Piccarda Donati è nella letizia totale di Dio che proviene dalla carità che lei vive lì in comunione con i Santi. Ma il colloquio con Piccarda prosegue perché Piccarda presenterà anche un'altra anima che è quella di Costanza d'Altavilla. E noi nella prossima puntata parleremo anche della volontà assoluta e della volontà relativa.